Andiamo al segno del cancro. La luna in transito nel segno dell'ariete non è mai una buona notizia per quanto vi riguarda, però in congiunzione con questo urano, in aspetto con il sole nel settore che rappresenta il successo, la possibilità di ottenere dei risultati importanti per chi deve in qualche modo cambiare la propria condizione lavorativa professionale, questo è il momento di agire, di dire anche la vostra apertamente, di tirare fuori quello che non vi piace, quello che non vi va. Se avete una richiesta ad avanzare fatelo anche in questa giornata, se avete una critica da fare alle persone che vi circondano fatelo in questo giorno, vedrete che otterrete il risultato sperato e voluto. Per quanto riguarda l'amore invece vi chiediamo di essere un po' più disponibili e meno mutevoli nel vostro atteggiamento, nel vostro carattere, quando c'è questa luna così difficile voi tendete sempre a fare un po' i capricci e siccome questa è una luna vicina ad un urano qualcuno di voi potrebbe addirittura esagerare e andare alla ricerca anche di qualcosa di completamente nuovo, ma sappiate che andate ad infilarvi tante volte in situazioni piuttosto complicate dalle quali poi potrebbe essere molto difficile uscire.